Lei ha detto prima, da potenziale elettore del Partito Democratico, non da candidato, lo ribadiamo una volta di più, perché lei non ha mai preso la testa del PD? A un certo punto aveva intenzione di farlo. È una storia molto divertente, ci ho provato un paio di volte. Guardi, la prima volta non l'ho presa, dopo essere uscito da scelta civica che è finita, non l'ho presa perché ho cercato di capire come potevo contribuire. All'epoca facevo il viceministro per il commercio internazionale, un dibattito eccetera e non ci sono riuscito probabilmente per colpa mia, quindi non vedevo una collocazione. Poi dopo è nata in me l'idea di continuare a fare semplicemente il mio lavoro e poi paradossalmente dopo il referendum che abbiamo perso, che secondo me è stata una battaglia importantissima per l'Italia, un po' c'è stata l'idea di dire, ma vediamo se possiamo costruire qualcosa di più ampio. Poi però sono incominciate le polemiche sulla durata del governo e mi sono disamorato rapidamente. Ho capito, questo non è poco, quindi lei si immagina comunque in un futuro distante dalla politica? Sì. Si sente più tecnico o meno tecnico all'interno di questo governo? No, io non sono tecnico, sono politico perché il ministro fa il politico. Io ho una mia idea delle cose e cerco di fare il mio lavoro sulla base dell'idea delle cose che mi sono fatto e quindi ho una visione che è politica e il ministro non può essere puramente tecnico. E penso anche che oggi è importante, soprattutto per chi dei ministri ha l'indipendenza, anche che gli deriva dal fatto magari di finire il proprio percorso, di comunque non candidarsi, di essere molto diretto nel dire le cose come stanno. Quindi in questo momento non candidarsi è un grande vantaggio, si può essere ancora più. Poi è fortunato perché è un periodo che non la candidano più col centrodestra, con Berlusconi. C'è stata una fase in cui lei era il candidato perfetto di Berlusconi, anche lui devo dire che ha detto qualche frase che sembrava aprire degli spiragli. Una fase intensissima, tant'è che io Berlusconi in vita mia non l'ho mai sentito neanche al telefono, quindi come eravamo proprio nel pieno delle fesserie che si leggono dappertutto.